Ciao, sono Danny DJ. So che è un momento particolarmente delicato, ma non voglio smettere di pensare al futuro, sognare ad occhi aperti e magari fornirti un paio di soluzioni sull'organizzazione artistica del matrimonio. Per questo proveremo insieme a disegnare una festa bellissima fatta di musica, artisti e spettacolo. Tutto inizia dall'aperitivo e può essere arricchito in diversi modi. Prima soluzione, semplice musica d'ascolto con una playlist creata ad hoc. Vi faccio un esempio, deve essere elegantissima, Riffiffi, un album fantastico, Nick the Night Fly, due album da tenere in considerazione per un aperitivo elegantissimo. Seconda soluzione, con un sassofonista o un violinista. Vi invito a guardare i miei precedenti video dove troverete un sacco di informazioni, artisti e soluzioni in musica. Terza soluzione, in acustico, magari con un duo, trio, quartetto dal gusto vintage. Può essere Dixieland, Blues, Jazz. Ne sono certo, sceglieremo la soluzione migliore. Bene, dopo l'aperitivo è il momento di passare al pranzo o alla cena in caso di matrimonio serale. Anche questo momento può essere arricchito in diversi modi. Anche qui tre soluzioni diverse. Prima soluzione, DJ e animazione. Durante il pranzo o la cena ci sarà un po' di musica ad ascolto. Mentre le pause ballo verranno gestite, colorate, animate da me insieme all'animazione. Seconda soluzione, DJ, animazione ed un trio personalizzabile. Per esempio, voce femminile, piano e sax. O può essere anche voce maschile, percussioni e un artista cubano che va letteralmente a colorare il party, a colorare la festa. Terza soluzione, DJ e band. La band la sceglieremo insieme in base ai vostri gusti musicali, come deve essere pop, italiana, rock. Concluderò questo video con un breve mix di musica e ricordi. Sarà un contenitore di genere musicali diversi, messi insieme, compressi. Bene, siamo al momento del taglio della torta noziale. Questo momento deve essere magico e ricco di emozioni. Le soluzioni sono diverse e anche in questo caso possiamo immaginarlo come più ci piace. Prima soluzione, che è il modo più semplice. Sceglieremo insieme un brano che accompagnerà l'arrivo degli sposi, un brano per il momento del taglio della torta noziale e uno per il brindisi. Ho creato questa scheda tecnica dove annoteremo tutte le vostre preferenze e non farà altro che rispecchiare i vostri gusti musicali. Seconda soluzione, possiamo arricchire il momento del taglio della torta noziale con un violinista o un sassofonista che accompagneranno questo momento magico. Ancora una volta vi invito a guardare i miei precedenti video dove troverete diverse soluzioni, artisti, musica e informazioni. E voi che stile vorreste dare al vostro matrimonio? Rock? Reggae? Herpy? O di tendenza? Disco? Clam? Concludo questo video con un concentrato di musica e ricordi. Buon ascolto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.